Buon pomeriggio per Notizie d'Abruzzo, siamo a Francavilli in compagnia di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Domani grande debutto della maggioranza di centrodestra del Presidente Marsiglio e dell'opposizione che ci sarà lei, l'avvocato Giovanni Legnini e per i 5 Stelle Sara Marcozzi. Lei come si presenta a questo debutto come Partito Democratico? Intanto ci saranno le decisioni che verranno assunte a partire dalla maggioranza circa la Presidenza, l'ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio, i due Vice Presidenti, i due Segretari di Aula e credo che lì ci sarà, penso e immagino, un ragionamento con le altre forze politiche, in particolar modo con gli altri due poli, che metterà il Consiglio in grado di partire con l'undicesima legislatura condividendo, credo, il percorso di indirizzo e di governance del Consiglio regionale. È il primo passaggio importante ed è un passaggio dove noi saremo disponibili a qualsiasi tipo di dialogo e di confronto ovviamente per quanto riguarda la governance del Consiglio regionale. Il Presidente Marsiglio ha dichiarato di recente che ci sono 57 milioni di euro per la sistemazione delle strade in Abruzzo mentre il PD rivendica, o il centro-sinistra rivendica, sono 57 milioni di euro del Masterplan che era molto criticato come misura e come sistema da parte del centro-destra. Lei che dice? Ma noi non è che rivendichiamo, noi in realtà affermiamo con certezza e con totale verità che il Masterplan è stato uno strumento di programmazione che ha messo in campo un miliardo e mezzo di euro ovviamente diluito nel settennio e che ha permesso da subito, perché è stata una scelta del Governo d'Alfonso della Giunta regionale precedente, di mettere in campo degli investimenti circa le strade provinciali. Da questo punto di vista devo dire che come al solito le bugie hanno le gambe molto corte e che il tempo è galantuomo. Il fatto che il primo provvedimento che si intesti il Presidente Marsiglio abbia a che fare con i 56 milioni di euro che abbiamo stanziato a favore delle strade provinciali ovviamente dimostra che noi avevamo ragione che loro avevano torto a dire che il Masterplan era un blef e tra l'altro dimostra anche altre due cose. La prima, che la Regione anche pur non avendo la competenza circa le strade provinciali ha avuto l'intuizione con il Governo di centrosinistra di immaginare che il grande tema delle strade provinciali e della viabilità era un tema davvero molto sentito dagli abruzzesi e siamo riusciti pur non avendo le competenze a far passare al Governo l'utilizzo delle risorse per le strade provinciali. In secondo luogo, con la scelta del Presidente Marsiglio di mettere in campo l'anticipazione di cassa con le risorse della Regione dimostra un'altra seconda verità e ovviamente allo stesso tempo smentiscono di nuovo il centrodestra che allora era l'opposizione ovvero i conti della Regione sono sani. Tant'è vero che nel 2014 quando mi insediai da assessore al bilancio dovette la Regione avere 140 milioni di euro di anticipazione perché era andata in difficoltà di cassa e invece oggi noi lasciamo 488 milioni di cassa tra la cassa del bilancio e la cassa della sanità che mettono la Regione nelle condizioni di anticipare su degli investimenti che lei trasferisce alle province e alle province stesse le risorse per far partire gli investimenti. Credo che siano delle grandi verità, dei grandi fatti che danno dimostrazione che il lavoro che abbiamo lasciato è un buon lavoro per quanto riguarda alcune obiettive, alcune azioni che abbiamo messo in campo. Lei esce di scena come assessore alla sanità e entra in scena Nicoletta Verì del gruppo della Lega. Che consigli, quale auspicio può fare per la dottoressa Verì? Alcuni consigli partendo dall'intervista del presidente Marsiglio che allo stesso tempo ha smentito il suo assessore Febbo. Marsiglio nell'intervista che ha rilasciato, credo l'altro ieri, sulla sanità ha dichiarato che siamo vicini all'uscita dal piano di rientro. Ovviamente va fatta qualche ulteriore azione. Ed è vero, io l'ho sempre sostenuto, dopo l'uscita dal commissariamento concluso il piano di riqualificazione che era il programma con il quale uscivamo dal commissariamento 2016-2018, se si fanno alcune altre azioni siamo nelle condizioni di poter concludere anche il piano di rientro. Quindi confermo che secondo me questo è uno dei grandi obiettivi che all'inizio, proprio all'inizio della legislatura, possono essere colti. Il secondo tema, il secondo suggerimento che mi sento di poter dare è quello di rivolgerci tutti insieme, anche in questa regione, ai grandi problemi del futuro della sanità e soprattutto ai cittadini che vivranno di più quei problemi. E sono i cronici. In Italia ci saranno 26 milioni di cronici, in particolar modo gli anziani, le persone più fragili e non autosufficienti, a loro deve essere indirizzata la programmazione del sistema sanitario regionale del futuro. Ultimo tema per quanto riguarda la rete ospedaliera, che sia di riferimento la qualità delle prestazioni, quindi gli esiti delle cure. Per farlo occorre dare know-how ai nostri operatori e quindi concentrare alcuni tipi di attività ospedaliere per acuti. Infine, brevissimamente, lei e l'avvocato Giovanni Legnini, quale tipo di opposizione farete? Leale, dura ma costruttiva, che entra nel merito e che non urla a prescindere. Il contrario di quello che hanno fatto le opposizioni in questi cinque anni, quando con un'operazione di forte mistificazione, pur di stimolare di senso e rancore, hanno urlato anche quando non vi era bisogno e sono entrati quasi mai nel merito dei problemi. Noi faremo il contrario, saremo allo stesso tempo duri, ma faticosamente lavoreremo e studieremo i provvedimenti, entreremo nei grandi temi che riguardano l'Abruzzo e gli abruzzesi e cercheremo non di urlare l'opposizione, ma di snidare in questi tipi di scelte la maggioranza anche circa quelle decisioni che possono sembrare non portatrici di consenso, ma che allo stesso tempo hanno a che fare con la vita e il futuro delle persone. Bene, ringraziamo Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico al Neoconsiglio regionale. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie a voi.